è il 26 ottobre e siamo a cumiana un gruppo di cittadini sta dimostrando in maniera totalmente pacifica il proprio amore per gli alberi di questo giardino che un giardino pubblico domani verranno tagliati lo abbiamo scoperto questa mattina e la cosa ci rende molto presti sono molto triste di pensare che questo sia l'ultimo giorno di vita di questo albero perché in questo momento nel nostro mondo abbiamo tanto bisogno di alberi e di vita naturale intorno a noi usiamo i nostri soldi per piantarli gli alberi non per tagliarli anche i fiori piangono questa è una bella area verde è un peccato rovinarla io sono allibito da quello che ha detto il sindaco non ho mai sentito una cosa di questo tipo non si rende conto di cosa sta facendo se decidessi un giorno di fare un'altra cosa diabolica probabilmente la potrebbe fare noi non possiamo fermarlo questa è una cosa di abone si ciao ciao Grazie a tutti.